Un'intesa importante per la riqualificazione del territorio e del potenziamento delle risorse umane a disposizione per la città metropolitana di Napoli, che ha visto il sindaco Luigi De Magistris siglare con il procuratore regionale della Corte dei Conti, Vincenzo Cottone, un protocollo di intesa per il conferimento di deleghe alla Polizia Provinciale di Napoli. Un corpo di polizia che doveva essere dismesso a causa delle molteplici difficoltà economiche, ma che viene invece potenziato con ulteriori agenti e con risorse informatiche e digitali. Grazie a questo accordo ci saranno maggiori forze a disposizione per le indagini, come dichiara il procuratore regionale Vincenzo Cottone. Facciamo un esempio. In campo di abusivismo edilizio normalmente interviene il giudice penale con i suoi istruttori, i provvedimenti e con le sue condanne. Una volta che il costruttore abusivo viene condannato, poi di fatto la nostra esperienza ci dimostra che cambia poco o niente. Nel senso che il costruttore abusivo rimane a godere della sua casetta che si è fatto del monofatto abusivo e nessuno gli dice più niente perché intanto lui è stato condannato, però anzi addirittura ha anche un plus valore perché non paga l'Imu, non paga gli allaci, non paga assolutamente più niente. Noi interveniamo perché si dia esecuzione a questo tipo di sentenza e quindi stimoliamo attraverso le nostre istruttori, attraverso la nostra azione, gli enti locali a far sì che acquisiscano il bene gratuitamente e quindi lo mettano a reddito e quindi diventa un'entrata per quanto riguarda il comune. Oppure se non è compatibile con le norme urbanistiche, con le norme a tutela dell'ambiente, di farlo demolire. L'inerzia degli amministratori che finora è rimasta non attivata viene così attivata, d'altra parte gli stessi amministratori nel momento in cui interviene la Corte dei Conti hanno uno strumento, una forza in più per poter contrastare le forze locali davanti allo strumento di pressione che dice no ma non devi demolire eccetera, siccome la responsabilità dell'amministratore è una responsabilità personale e una responsabilità di tipo patrimoniale l'amministratore potrà benissimo dire sì sì io rispetto benissimo le tue perplessità, i tuoi problemi però la Corte dei Conti mi sta addosso e io altrimenti ne rispondo personalmente.